Bentornati sul mondo Juve, oggi si parla di Paul Pogba e di Maria, perché la Juve questa notte sembra che ha fatto, non so, miracoli, ha fatto delle trattative, ecco, e voglio parlare di questi due giocatori che praticamente stanno per arrivare alla Juventus. Cosa ne penso? Pogba secondo me è un no, a me Pogba piace tantissimo, il Pogba della Juventus era uno dei migliori giocatori del mondo secondo me, però il Pogba che ora a me non piace, praticamente Pogba secondo me è un giocatore ormai andato e ha meglio trattenere Dybala, anche perché a me Dybala piaceva tantissimo, però a livello di infortuni Pogba è sempre rotto, infatti Pogba in questo momento è rotto, quindi non so se ha senso far arrivare a Pogba la Juventus, anche perché ha fatti 29 anni, vabbè ci sta, si fa tre stagioni alla Juve, arriva a 32-33 anni e va bene ci può stare, ok, però il punto è un giocatore che spesso, troppo troppo spesso è infortunato, noi non vogliamo altri giocatori che si infortunano per ogni stronzata, prende una botta e si infortuna praticamente, Pogba ti fa 30 su 50 partite all'anno, forse un po' meno, quindi molto molto difficile, anche perché si parla di progetto giovani e se arriva un Pogba o Miretti troverà meno posto, Miretti che ha fatto delle prestazioni molto buone in prima squadra nelle ultime tre partite, Pogba andrebbe a sostituire un po' Artur, perché Artur sta per fare uno scambio col difensore del Arsenal, Artur vuole andare all'Arsenal già a dicembre, ora sembra che è arrivato il punto, anche perché il suo procuratore ha già detto che lo vuole mandar via dalla Juve, perché con la Juve sta perdendo il posto in nazionale e lui a Qatar ci vuole andare per forza, certo, ovviamente lo capisco, quindi già, pensavo che quel posto andrebbe proprio a Miretti, però purtroppo sembra che lo prenderà Pogba, certo, quando Pogba sarà infortunato sarà il posto di Miretti, ah no, aspetta, c'è la trattativa con Giorginio, faremo un altro video su Giorginio, parliamo di Di Maria, Di Maria secondo me è un giocatore finito, negli ultimi due anni non sta più facendo tutto questo gran che ha il PSG, quindi non so, secondo me non ne vale la pena, a parte ha 33 o 34 anni, 34 se non mi sbaglio, ed è finito, Allegri vuole giocatori pronti, ok, però sarà una Juve che vincerà un scudetto, due scudetti ed è finita, non sarà una Juve che nei prossimi cinque anni vincerà la Champions, non avremo un chissà che cosa per i prossimi cinque, sei, sette anni, questa è una Juve istantanea che andrà a vincere uno scudetto, due per centinaio della famiglia Agnelli, per dire abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia magari, e basta, è sempre lì la cosa, quindi non ne vale la pena, però comunque di Maria molto 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 vicino alla Juventus, con un contratto di un anno probabilmente, quindi non ci sarà neanche il decreto crescita, perché il decreto crescita ci vogliono due anni, Di Maria ha detto che vuole farsi un altro anno in Europa e poi tornare in Argentina, se rimane due anni ci può stare risparmiamo un po' di soldini, perché c'è il decreto crescita, si andrà a pagare molto di meno, però sinceramente non lo so, non lo so, anche perché potrebbe togliere il posto a Chiesa, Chiesa lo abbiamo appena riscattato, giocatore chiave, giocatore importante, giocatore che servirà, specialmente nella seconda metà della prossima stagione, anche perché è ancora infortunato fino a ottobre, poi inizierà il mondiale, quindi prima di gennaio non si giocherà probabilmente, lì sono cazzi raga, ve lo dico, sono cazzi se Di Maria toglie il posto a Chiesa, per un anno, due, Chiesa diventa magari un po' più schazzo, perde la valutazione, e poi di Maria toglie se ne va in Argentina, non ce ne siamo fatti niente, quindi spero che almeno lo Scudetto l'anno prossimo lo vinciamo, la Coppa Italia, non la voglio la Coppa Italia, per favore ve la regalo, diamola al Lecce ok, diamo la Coppa Italia al Lecce, forza Lecce comunque, i miei genitori sono leccesi comunque, per chi non lo sapesse, diamo la Coppa Italia al Lecce, io se voglio vincere lo Scudetto, voglio, voglio il Scudetto, lo voglio lo Scudetto, lo pretendo, pretendo lo Scudetto, se andiamo davvero a comprare giocatori come Perisic, se andiamo a comprare Giorginio, se andiamo a comprare Pogba, se andiamo a comprare Di Maria, e diamo via Di Bala raga, diamo via il miglior giocatore della Serie A, io voglio almeno lo Scudetto, in teoria vorrei vincere la Champions sinceramente, ma con Massimiliano in Lega non c'è da vincere la Champions, anzi, se arriviamo ai quattro è già tanto, visterò anche gli ultimi tre anni di merda, e sinceramente, se non arriviamo almeno alle semifinali, e io spero di arrivare almeno in semifinale, non voglio vincere la Perforza, mi basta arrivare in semifinale, mi accontento, ma se non arriviamo almeno in semifinale, non arriviamo almeno tra i primi due in Serie A, io mi incazzo, io credo che questa Euro non lo so, non sarà la Scudetto, è Allegri Out comunque, è ufficiale Allegri Out, ditemi nei commenti come l'ha pensato voi, però io stavo meglio con Pirlo, io con Pirlo mi ero incazzato perché non mi avevo vinto il decimo Scudetto di fila. Alla fine, Pirlo non ha fatto una stagione terribile, ha vinto il Super Coppa Italiana e ha vinto la Coppa Italia, è arrivato quattro per lo Scudetto, però all'ultima giornata è anche un po' difficile, però ha fatto 78 punti, Allegri il massimo che può fare sono 73, se vinciamo con la Fiorentina, se vinciamo, se ne farò 71 o 70, molto peggio di Pirlo, Comunque siamo sempre lì, torniamo sul discorso Pogba, Pogba ha tanto, ha tanto dalle Juve, Di Maria ha ancora di meno e probabilmente entro le prossime settimane diremmo Pogba back e benvenuto Di Maria. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, qualcuno guarda i video da un escosto mi dispiacerebbe, Iscrivetevi, è gratis, mi fate un favore, scrivetemi nei commenti come la pensate, vorrei vedere la vostra opinione, Sempre forse Juve, anche se i tempi sono difficili ora, però ce la facciamo dai, ciao!